Poi bisogna anche interrogarsi su che cosa è questa fantomatica conoscenza, perché c'è conoscenza e conoscenza. A noi ci hanno fatto questo sinonimo che la conoscenza è un processo additivo, che noi dobbiamo aggiungere qualche cosa. È molto progressista questa visione della conoscenza. Ovviamente è stata funzionale proprio l'introduzione di mezzi, fra virgolette, per questa conoscenza, come gli smartphone. Ma la conoscenza in senso additivo è una visione progressista, intanto che ci vede l'uomo alla nascita come un essere che non conosce, perché se tu devi conoscere vuol dire che non conosci. Io invece ritengo, è una visione più mistica e forse se vogliamo anche orientale, che l'uomo deve sottrarre, non aggiungere. Perché, come dicevo, una cellula sa tutto. Io credo che dentro di noi c'è il processo del fatto che noi respiriamo, il cuore ci batte. Sono meccanismi che sono tanto simili a quelli dell'universo, perché le stagioni, l'inverno e l'estate, sono un moto di contrazione ed espansione, così come anche l'universo nei suoi cicli. Noi portiamo dentro di noi la verità. Allora, noi siamo incapaci di ascoltarci, proprio attraverso questi fantomatici mezzi di conoscenza che ci sottraggono da questo ascolto. Io la vedo così, che noi dobbiamo sottrarre e non aggiungere, dobbiamo ascoltarci, riappropriarci di quello che appunto ci stanno togliendo questi mezzi di conoscenza, pseudo mezzi di conoscenza. Certo, molti di noi sanno che fatica ci vuole a riuscire ad avere la mente vuota, no? Magari quando avevamo 18 anni non ne eravamo capaci, poi magari qualcuno ci è riuscito in seguito. La vera mente vuota, diciamo, non è una cosa banale, quindi è interessante quello che tu stai dicendo, molto molto interessante. Noi viviamo generalmente, il senso del tempo che abbiamo, qual è? È che noi domani dobbiamo andare a fare la spesa, oppure pensiamo a un progetto che abbiamo in qualche mese, oppure ad esempio pensiamo ai nostri figli, però la gittata del nostro pensiero temporale arriva a qualche anno. Dovremmo invece fare questo esercizio mentale, agire come se le nostre azioni, i nostri pensieri avessero riverbero nei millenni. Cambierebbe il nostro modo di agire, questa è la coscienza che abbiamo di agire. Sono d'accordo. I mistici parlano del fatto che in qualche modo si sentono come dei flussi, come dei, diciamo, una modalità di canalizzare qualcosa di più grande verso questa, diciamo, dimensione, tra virgolette, no? E quindi in qualche modo sono contenti di poter essere questa sorta di muto che in qualche modo canalizza, diciamo... Allora, io ho fatto un libro, adesso ve lo mostro. Questo libro qua si intitola La biografia della forza attraverso la storia di dodici uomini straordinari, no? E mi sono chiesto, in effetti, che cosa ha spinto alcuni uomini a cambiare radicalmente le sorti del mondo? E ho preso esempi in tutti i campi, archeologici, militari, politici e religiosi, attraversando menomazioni, malattie che li hanno portati a loro del suicidio, che hanno perso tutto, e mi sono chiesto chi gli ha dato la forza a questi uomini, partiti da niente, di ottenere risultati eclatanti. E gli esempi sono dodici, ma sarebbero molto di più, ma mi viene in mente un Gandhi che possedeva, quando è morto, una tonaca e un paio di sandali, e basta, e gli occhiali, che è riuscito a, diciamo, a vincere sulla più grande potenza militare navale del mondo. Come ha fatto? E allora ha scelto di vivere nella povertà, nell'astinenza e così via. E di nuovo, questi limiti che si era autoimposto, e noi pensiamo invece, dobbiamo avere di più, dobbiamo ottenere di più, magari uno pensa, cosa devo fare per ottenere un grande risultato, devo ottenere quello, devo ottenere quello. Gandhi si è tolto quello che aveva, nonostante la privazione di malattie, con la ferma convinzione. Allora, il discorso del limite è che noi siamo immersi in una situazione che ci limita in continuazione, innanzitutto il nostro pensiero, perché è il limite più grande. Noi possiamo, ecco, torna indietro di un passaggio, riteniamo che il pensiero sia una cosa evanescente, senza peso, quando dici, ma è solo un pensiero. Però se noi facciamo dei piccoli esercizi, ci rendiamo conto che non è così, perché, ti faccio un esempio, Roberto, tu puoi decidere dopo di andare a mangiare una pizza, ok? Oppure di andare al cinema. Cambiare questo pensiero non ti richiede molto sforzo, perché dici, metto una giacca piuttosto che un'altra. Però se tu fai un altro ragionamento, dici, stasera ammazzo una persona. Già è diverso, perché nella tua mente subentrano, come dire, degli altri fattori, no? O anche, se tu prendi un oggetto, una bottiglia, e ti invito a lasciarla cadere, senza pensare che cadrà, ti rendi conto che non ce la fai? Oppure ancora, se ti dico, prova a pensare a un cucchiaino per un minuto intero, senza avere distrazione. Allora tu ti accorgi che non ce la fai. A quel punto, che cosa tu concludi? Che sei tu a pensare? Che rapporto c'è fra la tua volontà e il tuo pensiero, se non sei neanche capace di controllare i tuoi pensieri? E soprattutto, se ti accorgi che ci sono delle gerarchie nel pensiero, che ti trovi già pronte? Che ti sono state messe lì? E che tu riempi con il fatto che uno deve andare a mangiare la pizza, ma è perché è l'unica cosa che riesce a cambiare? Allora, cosa ti insegna il mistico, no? Il mistico ti insegna a distruggere tutto quanto che c'hai nella testa, ti insegna a distruggere queste categorie a monte. Quando tu le hai distrutte tutte, allora vedi che i rispettivi Napoleone, che ha tentato il suicidio, Cortes, che si è messo a piangere dopo che ha perso tutti i suoi uomini ed è riuscito a conquistare un impero di 25 milioni di azzecchi con 500 uomini. Qual è l'aspetto in comune di questi uomini qua? Pensiamo anche a Mesner, che ha scalato gli 8.000, senza le dita dei piedi. Noi non stiamo neanche ai piedi senza le dita dei piedi. Perché sono riusciti a svuotarsi, a rimettersi fuori di sé. E hanno trovato una potenza, una volontà, un'irremovibilità che li ha portati a cambiare il mondo. Noi abbiamo bisogno di questo, secondo me, oggi. Perché le forze, io parlo come filosofo, quindi come dicevo, non è che adesso faccio esempi dell'amministrazione o della politica. Io dico che le forze in gioco oggi che vogliono ridurre alla schiavitù l'uomo fanno appello all'avidità, alla sete di potere, all'incapacità dell'uomo di togliere, di togliersi il fardello in più. Quindi basterebbe un uomo solo che arriva a trovare questo nucleo indistruttibile e quell'altro sistema l'ha, l'onnipotenza dei sistemi di potere si scioglie come il burro al sole. Come può essere? Fammi farci capire questa cosa. Come può essere che, essendo tutti immersi in questo sistema di comunicazione falsata di cui tutti noi che siamo qui stasera siamo consapevoli, si possa realizzare quello che tu dici? Farci capire meglio come la vedi. Questo è assai difficile, no? Ma il tutto deriva dall'ascolto di sé, che dicevo prima, no? Perché uno può dire, sto in una grotta, in silenzio, però magari è più facile in una grotta, in silenzio, molto più difficile. Secondo me si tratta di farlo, perché non è che ci sia adesso un metodo, le cose sono, ecco, non è che io creda nei santoni, nei guru, che magari c'è, non credo queste cose, io credo che noi abbiamo già a disposizione tutto quello di cui abbiamo bisogno fin dalla nascita, sono quelle cose che diamo per scontate. Il nostro respiro, per esempio, non ci accorgiamo neanche di respirare, è un fatto dato per scontato, ma non lo ascoltiamo. I momenti fra il sonno e la veglia, in cui non c'è, nel sonno e nella veglia, quelli neanche li ascoltiamo, sono alla sveglia, ci alziamo, andiamo a lavorare. Io dico che sono anche piccoli gesti, per esempio, quando io prendo il libro in mano, ci accorgiamo della sensazione della carta sulle dita? Si tratta di queste piccolissime cose, secondo me, cioè di un modo di essere che richiede una vigilanza e un ascolto di se stessi perpetui, perpetuo, una vigilanza perpetua.